Nuovo orario, vecchi problemi, è entrato in vigore il 9 dicembre, l'orario invernale di Trenord, un battesimo poco piacevole per gli utenti, considerato lo sciopero proclamato nel weekend, che ha praticamente azzerato il servizio ferroviario. Oggi il battesimo con i pendolari, con i soliti ritardi e disagi ormai cronici. Chi si aspettava un potenziamento del servizio deve mettersi il cuore in pace. La linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano è fra le più colpite in Lombardia, dai tagli a farne le spese, le tratte intermedie e i treni in orari poco frequentati. È stato cancellato, ad esempio, il treno che partiva da Milano-Centrale alle 23.52, arrivava a Lecco poco prima dell'1, l'ultimo treno in partenza da Milano e ora alle 23.22. Chi lo perde può prendere tre minuti dopo un treno per Monza, dove a mezzanotte e nove minuti parte un pullman diretto a Lecco con arrivo intorno all'1.30. Soppressa anche l'ultima corsa serale in partenza da Sondrio alle 21.22 con arrivo a Milano-Centrale alle 23.30. Oltre a ciò, le modifiche introdotte riguardano le fasce orarie ritenute poco frequentate. Soppressi i treni da Sondrio-Lecco delle 8.47, 10.47 e 17.47. In sostituzione i pendelari potranno usufruire di pullman che partiranno da Sondrio alle 8.22, 10.22 e 17.22 con destinazione Colico. Da qui sarà possibile raggiungere Lecco in treno. Sarà sostituito da bus anche il treno delle 10.24 da Tirano a Sondrio. In direzione opposta invece da Lecco i treni delle 7.18, 9.15, 17.15, 19.15 e 20.15 saranno limitati a Colico. Da qui per raggiungere Sondrio si potrà utilizzare nuovamente il treno grazie a coincidenze. A protestare contro il nuovo orario è Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Sostituire la gomma al trasporto su ferro dichiara è sbagliato perché si aumentano i tempi di percorrenza e l'inquinamento. Inconcepibile che la politica di trasporti lombardi arretri e che di questo penoso risultato dobbiamo ringraziare Lega e Centrodestra che sprecano i soldi dei cittadini in opere inutili e hanno abbandonato il trasporto pubblico e i pendolari al loro destino.